ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo appuntamento sempre sulla serie di wwe 2k 19 continuiamo la carriera ci eravamo lasciati con noi che dovevamo invadere la nxt quindi invadere il territorio di triple h una volta sul parco forse ti conviene fare un promo piuttosto che attaccare qualcuno però non rischia di infortunati allora abbiamo tre scelte ha ragione il modo migliore per far capire tutti che siamo qui per promuovere la bcw non credo che basterà un discorsetto o non ho ancora deciso come fare di preciso dovrei primo parlare con colpo si vediamo cosa cosa dice allora vediamo cosa ti ci dicevo se vogliamo darci davvero facciamo presto se non possiamo sottostare seduti ai nostri posti oppure fare un promo dobbiamo attaccare fisicamente qualcuno sembra anche qui tre tre scelte sono d'accordo un bel combattimento è molto più memorabile preferisco spiegare a parole cosa sia la bcw e perché valga la pena seguirla o non ho ancora deciso cosa fare di preciso chiedere dove parlarne con beh allora attaccare qualcuno o fare il promo sono d'accordo beh il combattimento è molto più memorabile lo dobbiamo dire all'altro no ok andiamo avanti qui c'è la bella testa di triple h che adesso ci guarderà male ovviamente quindi stiamo invadendo nxt io già so che noi possiamo andare a scegliere poi tre diciamo stable molto famose che ci sono state in da due da due quindi siamo in prima fila scegliere poi scegliere poi abbiamo il biglietto il biglietto il biglietto il biglietto il biglietto abbiamo il biglietto non dargli attenzione che vogliono nominandoli in diretta ok abbiamo staccato già qualcuno in nxt ovviamente nessuno sa cosa sta succedendo il giocatore deve vincere per cappare ok e dai però ma perchè perchè li prendo io è un po' bagatino dai andiamo nel ring dai andiamo nel ring diciamo così tanto lo atterriamo così dai che perchè dai perchè se siamo vicino con come si chiama col queen non possiamo andare a fare niente andiamo dentro al ring andiamo dentro al ring per favore ok vediamo se possiamo fare qualcosa ok allora dobbiamo vincere per K.O ma nessuno mi vieta di prendere un'arma e fare tutto quello che voglio giusto? il K.O è assicurato così l'abbiamo buttata la riprendiamo non è un problema questo l'abbiamo colpito tutti l'abbiamo colpito tutti con un colpo me li sono tolti tutti dal mezzo ok adesso vediamo se possiamo fare qualche mossa decente devo vedere però se con perchè 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 cioè io che sono alzato no dai prenditela con me un po' dai fammi giocare fammi giocare dai forse un po' troppo ancora il mio personaggio non è chissà che cosa qua quindi ancora è un po' da migliorare dai dai che cavolo però sti colpi da di così ok vediamo se possiamo finire un po' dai voglio fare la mossa speciale togli di colpa dai ok dai dai che siamo siamo rimasti a terra noi che abbiamo fatto la mossa ok adesso abbiamo il momento omg utilizziamo in questo momento omg dai se non è ko adesso si si ok abbiamo vinto per ko vediamo adesso come si svilupperà la situazione ecco eccolo ed è arrivato Triple H vediamo adesso cosa fa buttate lì buttate lì fuori ok ci ha buttato solo fuori non ha vabbè no vente non poteva fare altro dai ok tutti parlano di noi e tutta questa attenzione sarà un toccasana per il prossimo show della BCW ok vogliamo anche colpire già una prossima volta oh no tu sei tutto il buzz certo tutto il buzz abbiamo di mantenere questa cosa sì voglio essere trend non stop Triple H è un'altra cosa quindi non basta pagare i biglietti e andare in come abbiamo fatto oggi non basta pagare i biglietti e entrare ci siano un'idea non si è proprietario di un negozio di costume ok ragazzi io credo che per questo episodio già può essere tutto ci vediamo al prossimo episodio dove invaderemo una seconda volta uno degli show della WWE però stavolta con un costume rimediato in negozio di costume ci vediamo alla prossima ciao